Epilbody a Portoferraio organizza due giorni di open day per presentare il Vacuum Magic, ovvero l'avanguardia nel mondo del dimagrimento e della lotta alla cellulite. Buongiorno a tutti carissimi amiche, finalmente è arrivato sull'isola di Elba, fantastica apparecchiatura così tanto aspettata, Magic Vacuum, vi invito tutti assolutamente a provarla tutto il mese di marzo Epilbody vi regala primo trattamento in omaggio, vi aspettiamo tutti! Un macchinario che racchiude in sé tutti i benefici del Tapirulan, l'effetto sottovuoto del Vacuum e quello del Thermal, degli infrarossi. Questo trattamento permette di perdere fino ad una taglia con una sola mezz'ora di allenamento. L'azione di Vacuum Magic sfrutta la doppia funzione dell'attività fisica e del Vacuum con infrarossi. Due metodi naturali in una sola seduta per un risultato garantito già dopo 12-20 cicli di trattamento. Una sessione di allenamento dura circa 30 minuti. Vi presentiamo una tecnologia che nasce per il dimagrimento, il modellamento e la tonificazione. Ovviamente sapremo soddisfare ogni richiesta di qualsiasi cliente e qualsiasi esigenza. Anastasia vi aspetterà per una consulenza completamente gratuita. Attività fisica, riattivazione metabolica, dimagrimento del grasso corporeo, in più modellamento e tonificazione. Epilbodi a Portoferraio significa salute e bellezza, con uno staff invidiabile. Lisa, Adriana, Anastasia, Barbara, Raffaella, Aurora.